Ciao a tutti, questo video per rispondere a un'altra domanda di una follower che è la domanda è la seguente, riceverò una proposta di matrimonio? Non è specificato se da un fidanzato attuale o da un qualcuno che non esiste ancora e che deve arrivare, comunque la domanda è, riceverò una proposta di matrimonio. Prima di passare al consulto però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Vediamo un attimino cosa dice, cosa dicono le carte. Mescoliamo, tagliamo, giriamo il numero spontaneo che mi viene tra il 9 e il 3. 1, 2 e 3 La ruota è la fortuna Beh, probabilmente finora la fortuna non ha girato per il verso giusto 1, 2 e 3 Non hai avuto trionfi, caro del trionfo al contrario 1, 2 e 3 La papessa Probabilmente non hai fatto un, non hai fatto un, diciamo, un percorso interiore sufficiente 1, 2 e 3 E il matto rappresenta l'energia e la voglia di fare le cose comunque In modo un po', come dire, rappresenta la voglia di fare le cose In modo un po', per così dire, azzardato, diciamo così Vediamo il divenire 1, 2 e 3 La temperanza La temperanza vuol dire che ci va pazienza Però la pazienza potrebbe diventare perdita di tempo Attendendo questa proposta di matrimonio 1, 2 E avrai scarsa, una forza scarsa 1, 2 e 3 Perderai del tempo 1 In situazioni, diciamo, di malessere 2 E 3 E Ti innamorato Non hai poi così innamorato Questo, quindi, desumo l'esistenza di un fidanzato Che però Non ti ama a sufficienza da fare questa proposta di matrimonio Vediamo la sintesi 1, 2 E 3 Le stelle Però, comunque, le stelle sorridono Se non sarà lui, potrebbe essere un'altra persona Questa persona a cui tu fai riferimento Probabilmente non lo sarà Ma, in generale, è probabile che poi successivamente tu riceva questa proposta di matrimonio Perché le stelle rappresentano comunque il trionfo Rappresentano il successo Quindi, sì, ma non nella situazione attuale Cioè, questo ti fa perdere tempo Ti genera fastidio E non è la forza sufficiente Quindi, la proposta arriverà Ma non da quello attuale, diciamo così Bene, per questo video è tutto Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco Iscriviti al canale Iscriviti al mio nuovo canale Felicità e benessere Di cui ti posto il link in descrizione Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti